Come ogni anno la comunità di Punta Licosa, nel comune di Castelabate, si prepara per i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Soccorso. Infatti domenica 21 luglio alle ore 18 si terrà l'alzata del quadro della Madonna del Soccorso e alle ore 18 e 30 la Santa Messa. Giovedì 25 luglio e venerdì 26 luglio alle ore 18 e 30 ci sarà il Santo Rosario e la Santa Messa. Sabato 27 alle ore 18 e 30 Santo Rosario e Santa Messa, mentre alle ore 19 e 30 Musica e sull'acqua cura del concerto bandistico Santa Cecilia di Castelabate, diretto dal maestro Leo Capezzuto. Domenica 28 luglio Santa Messa Solenne e a seguire processione della Sacra Immagine della Beata Vergine Maria del Soccorso, ad accompagnare la processione il complesso bandistico Santa Cecilia di Castelabate.